Il Carnevale di Viareggio ha festeggiato oggi Carlo Pedersoli in arte Bud Spencer, avrebbe spento 93 candeline e per il suo compleanno Fabrizio Galli, artista del Carnevale Viareggino, insieme ai suoi più stretti collaboratori, ha voluto brindare davanti alla rappresentazione da lui realizzata. Il suo volto, la sua straordinaria gestualità e l'opera del costruttore viareggino fanno parte dell'immaginario collettivo condiviso da tutte le generazioni, diventando un personaggio familiare a livello internazionale. Fabrizio, perché questa iniziativa? Ma è molto semplice, oggi è il giorno e la ricorrenza della sua nascita, visto che la statua di Bud Spencer era qui a pochi passi dal nostro re Carnevale, ho sentito alla Fondazione Carnevale se lo potevo posizionare per questa giornata, dopodiché lo riporteremo nel mio hangar e sono stato autorizzato e quindi dalla cittadella del Carnevale un grande abbraccio a tutti i fans del grande Bud Spencer. Quanti anni avrebbe compiuto oggi? Avrebbe compiuto 93 anni e quindi niente. Lui è stato un grande conoscitore della nostra Versilia dove ha girato alcuni film? Sì, in Versilia, Viareggio, ha girato i film, lo chiamavano Bulldozer, dove c'era il Santa Monica e poi c'è un'altra storia, si è praticamente, ha fatto un refitting di un rimorchiatore che fu chiamato poi Sant'Andrea e questo refitting fu fatto dal cantiere Luzben Craft di Viareggio.